Bentornati in questa nuova puntata di Google Box Oggi come al solito faranno vedere ai nostri amici Alcuni video che a noi ci piacciono molto Ma agli altri fanno schifo Per cui benvenuti e buona visita Oh male Io con la vita Oddio no Infatti per questo non vado sullo skate Capisci? Io poi rimango così come lei Questi mi sono sempre Eh c'è sempre uno che vuole Sei particolarmente intelligente Oh mio dio Oh mio dio Si è spaccato tutti i denti Normalmente Oh mio dio Questa è Bush era passione Bicicoletto Si è incazzato anche Guarda la bionda E lei doveva finire scusami Devi essere bionda per forza per fare quello Anche lui Oh sto male mio dio Che mutata Ha un accento molto nordico E ha dei ticchi particolari Anche questa Bush Oh Oh Zucchina Lei dice stato Ah ah Zucchina È privato Zucchina Un tiranossauro che insegue un ominide E oh mio dio No 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 Ho intenzione di guardare Che fatica No che schifo cos'è Sai che l'ho guardato otto volte No 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 Guarda Guarda cosa fa No L'hanno vista piangere E lui è il quinto gemello Cosa sta succedendo Ma la scena è andata Mary Camminando sui sentieri più scuri Guarda guarda Io non voglio vedere quello Che c'è nel video adesso Mary